Parte ad Arezzo in Toscana il Natale solidale di Oxfam Italia. Dal 7 al 24 dicembre prende il via infatti un regalo con i fiocchi, per tutti, grazie anche al patrocinio del Comune della provincia di Arezzo. Un'occasione unica per dare un significato diverso alle festività alle porte, sostenendo i tanti progetti di lotta alla povertà di Oxfam Italia. In tutti i punti vendita Euronics della provincia di Arezzo, i clienti potranno farsi impacchettare i regali dai volontari di Oxfam Italia in cambio di un'offerta libera. I fondi Caccoglia aiuteranno il lavoro dell'Associazione Umanitaria nel garantire il diritto al cibo alle comunità più povere del pianeta, sostenere i diritti delle donne come vero motore di cambiamento o intervenire nella gestione delle emergenze umanitarie come quelle che hanno colpito la popolazione siriana o la popolazione delle Filippine. Questo è il terzo anno che Euronics collabora con Oxfam. Noi offriamo tutti i nostri punti vendita in cui i volontari Oxfam potranno impacchettare i regali ai nostri clienti in cambio di una piccola offerta. Siamo molto contenti di poter collaborare a questo progetto e visti i buoni risultati dell'anno scorso, speriamo che anche quest'anno si possa raggiungere lo stesso risultato in modo da poter aiutare Oxfam il più possibile. Siamo contenti anche di aver partecipato fin dall'inizio, quando Oxfam tre anni fa ha iniziato con questo progetto e siamo contenti di avergli dato una mano anche ad espanderlo poi in tutta Italia. La provincia patrocina l'iniziativa per il terzo anno, un'iniziativa importante che è più sinergie che si mettono insieme per raggiungere un obiettivo che è quello di aiutare persone vicine e lontane da noi che vivono una situazione particolare. Quindi fare un regalo con l'aiuto di ragazzi che veramente faranno degli splendidi pacchetti e loro stanno donando il loro tempo, qualcuno riceverà invece la vostra donazione per migliorare un pochino la loro qualità di vita. Quindi siamo orgogliosi di avere una realtà di tante persone a cui sta a cuore il destino, nonostante il destino magari un pochino più sfortunato di tanti altri fratelli che si trovano in altre parti del mondo. Per cui ecco, davvero un'iniziativa che però dietro a un lavoro di un intero anno.